E' stato inaugurato ed è già operativo a Giulianova il cosiddetto Ecocentro, situato in via Fontenoci, nella zona industriale di Colleranesco. Un ulteriore servizio che l'amministrazione di Giulianova mette a disposizione dei cittadini in quello che già ora è uno dei comuni in assoluto più virtuosi della regione in termini di differenziazione della raccolta dei rifiuti, addirittura primo tra quelli al di sopra dei 20.000 abitanti, sfiorando il 70%. Attraverso l'Ecocentro i cittadini giuliesi potranno recarsi loro stessi a conferire in loco e attraverso un meccanismo particolare. Maggiori saranno i conferimenti, maggiore sarà lo sconto presente sulla bolletta Tari recapitata. Le utenze domestiche accedono all'Ecocentro attraverso la tessera sanitaria. La lettura tramite il totem interattivo permette di riconoscere l'utenza iscritta al ruolo Tari, monitorare i conferimenti e la tipologia dei rifiuti. Un comportamento virtuoso si traduce in una tassa più bassa da pagare. E' un ulteriore tassello al percorso iniziato oltre otto anni fa, ha dichiarato il sindaco Francesco Mastromauro. L'Ecocentro ci consentirà di differenziare ancora meglio e contiamo, grazie a questo servizio, di migliorare ulteriormente i già soddisfacenti risultati ottenuti con 3-4 punti percentuali in più. La nostra ambizione, prosegue il primo cittadino, è quella di conseguire l'obiettivo rifiuto zero. Con l'Ecocentro Comunale, ha aggiunto l'assessore Fabio Ruffini, possiamo ristorare coloro che con la differenziata aiutano a migliorare i servizi e ad abbassare i costi.